Si concluderà qui quest'oggi dopo il rito religioso l'ultimo saluto all'imprenditore Vincenzo Cannatà suicidatosi ieri mattina con un terribile tragico ultimo volo giù dal balcone della sua casa. Questa è l'azienda Cannatà. Lo squarcio che vedete alle mie spalle è una delle conseguenze del tragico incendio che il 19 dicembre di 4 anni fa portò questa azienda in uno stato di gravissima difficoltà. Questa era una delle aziende più grandi dell'intera Calabria e una fra le più importanti del meridione. Tutto quello che vedete è stato distrutto da un incendio furibondo che noi filmammo e che ha prodotto dei danni irreversibili. Questa struttura non è assolutamente recuperabile. Basti notare come il fuoco abbia deformato i solai, vedete il ferro piegato, i tavelloni divelti, distrutti, carbonificati. E da questa vicenda, da questo rogo, iniziò la fase tragica della vita di Cece Cannatà. Un uomo che aveva superato tantissime difficoltà, fra cui un sequestro di persona, si ritrovò all'improvviso con l'azienda distrutta, con tantissime difficoltà, con grossi problemi. L'assicurazione, fra l'altro, logicamente come sempre accade per le assicurazioni, restia a liquidare in tempi brevi i danni e venne ipotizzato il sospetto di un possibile incendio doloso, una lunga serie di perizie contro perizie, un calvario che portò alla perdita di numerosi posti di lavoro. Ma Cece Cannatà, da quel grande imprenditore che fu, non voleva assolutamente cedere, non voleva assolutamente vedere finire questa sua azienda. E ha tentato di resistere, come ha potuto e più di quanto fosse umanamente pensabile. Vediamo questa parte dove sono ammassate tantissime macerie di ciò che resta dell'azienda Cannatà. E l'inchiesta giudiziaria portò alla fine a ipotizzare una situazione inquietante, un incendio doloso, un tentativo di truffa alle assicurazioni. E l'imprenditore, che aveva subito un sequestro di persona e che, nonostante non aveva mai pensato un solo attimo a lasciare questa terra, si è ritrovato da primo indagato, quindi è stato mandato a giudizio. E questa è la fase finale della tragedia di quest'uomo, un uomo che probabilmente non ha accettato, forse considerandola un'onta di infamia, un'accusa simile, stretto anche nella morsa di difficoltà finanziarie ed economiche nella gestione dell'azienda, alla fine ha fatto un gesto estremo, un gesto che con il senno del poi e con la freddezza di chi non è emotivamente interessato è facile dire non doveva essere fatto, ma nel cuore, nella mente, nell'animo di quest'uomo che ha posto fine alla sua vita in questa maniera così tragica devono essere stati momenti veramente gravi, difficili, inenarrabili, incomprensibili. Per questo, al termine del rito religioso che sarà afficiato dal parroco di Santa Maria delle Grazie e Don Antonino Spizzica, la salma verrà portata qua, il funerale non andrà direttamente al cimitero, passerà in questa azienda distrutta dalle fiamme. Il personale, nell'altra parte dell'azienda, quella risparmiata dal fuoco, c'è un grande cartello chiuso per lutto. Il personale, quello residuo, quello che spera ancora che l'azienda continui nel ricordo e nel nome di Cece Cannatà, si stringeranno qua per un ultimo applauso, per dire grazie a Don Vincenzo per quanto in questi anni è data Taurianova. Speriamo che Taurianova sappia essere riconoscente verso quest'uomo, coerente, coraggioso, perché anche per morire ci vuole coraggio. Da Taurianova, Luigi Mamone